La riqualificazione dell'Area Star, il progetto di ricostruzione dell'antico Viale Trivulzio verso Omate, i lavori all'Istituto Ferrario e la creazione della Casa della Comunità sono quattro rilevanti progetti che l'amministrazione Sieroni sta portando avanti ad Agratebrianza presentati in conferenza stampa. Interventi che tra nuove aree da creare e servizi da fornire cambieranno il volto della città, a partire proprio dagli interventi nell'Area Star con il mantenimento dell'attività produttiva e la riqualificazione dell'area circostante. Noi abbiamo provato in Consiglio Comunale, abbiamo portato all'attenzione dei consiglieri le linee di indirizzo per questo piano integrato di intervento invariante, abbiamo quindi messo i tasselli principali di quello che può essere il nuovo volto di quell'area, quindi passare da quella che oggi è un'area di oltre 100.000 metri quadri, completamente impermeabilizzata, tutta industriale e senza una minima parte di verde in un'area che invece sarà multifunzionale con residenze temporanee, con sempre un buffer per l'attività industriale della Star che qui ad Agrate vuole rimanere e vuole fare del proprio stabilimento il fiore all'occhiello di tutte le sue attività e un'area destinata al sociale, in particolare a un RSA e alcune aree commerciali, una grande area sportiva. Novità anche per i corposi interventi all'Istituto Ferrario e per la creazione della Casa della Comunità. Partiamo dal nuovo Istituto di Scuola Superiore che arriverà da Agrate. A fine mese, nella settimana del 27, la provincia consegnerà ufficialmente all'impresa che è stata individuata per realizzare sia il progetto esecutivo ma anche i lavori in l'area e quindi da lì a qualche giorno partiranno finalmente i primi lavori con l'allestimento del cantiere. Casa della Comunità, anche questo è un altro aggiornamento importante, proprio ieri siamo stati a una riunione con la SST. Ebbene è stato un incontro estremamente positivo perché ci hanno confermato assolutamente che stanno dando avanti a spadatrata su questo progetto, ci consegneranno il progetto definitivo a metà del mese di dicembre e l'esecutivo entro fine gennaio, in modo tale da partire subito dopo per i lavori. Per il piano per la ricostruzione dell'antico Viale Tribulzio sarà organizzato un incontro aperto alla cittadinanza lunedì 27 novembre all'auditorium Mario Rigoni Stern per la presentazione del progetto.